Gli investimenti per presto e quant'altro, evidentemente con tassi così bassi non dire che c'è moltissima liquidità, la liquidità serve per fare investimenti e qui è il punto centrale di cui si gioca un po' di questa scommessa, ossia le banche finanziano le imprese ma le imprese hanno un programma di investimento tali da aumentare la produttività e quindi vendere prodotti ma per vendere occorre che ci sia la domanda.